benvenuti nella prima puntata del vlog riguardo alle recensioni di strumenti musicali per questa prima puntata recensirò uno splash della UFIP da 10 pollici, delle bacchette della Rater, le Power 5B Acron che sono praticamente una novità per casa Rater e poi per la prima volta in vita mia dovrò recensire uno stand per piatto della Gibraltar. Iniziamo dalle bacchette, le bacchette sono una nuova formula applicata alle standard Power 5B che la Rater fa praticamente da anni, quindi la lunghezza è di 16 pollici e mezzo e lo spessore del grip è leggermente più grosso rispetto al resto del corpo della bacchetta. Le caratteristiche per quanto riguarda il grip e il corpo della bacchetta rimangono invariate rispetto a una standard Power 5B. La novità che Vater ha voluto introdurre è stata la punta Acorn, quindi la punta a ghianda, che appunto sostituisce la punta a barile di una normale Power 5B. Questo cambiamento rende la bacchetta una bacchetta ancora più adatta ai generi Hard Rock e Rock, per farvi un esempio. Queste bacchette sono adatte per suonare le Zeppelin, i Wisemaker e... Altro, ma che cazzo sto dicendo! Come dicevo, la bacchetta è più lunga di mezzo pollice rispetto a una normale 5B. Questo permette di avere una maggiore proiezione verso i tamburi e verso i piatti, quindi include anche un aspetto ergonomico da non sottovalutare. Quindi queste sono le Power 5B Acorn, e sono una novità che pensavo fosse quasi qualcosa di realizzabile, visto che io sono un amante della punta a ghianda. Tant'è che io ho sempre utilizzato sia le 5B dell'avate, che hanno appunto il tip a forma di ghianda, ma ho anche utilizzato le Power 5B perché, avendo delle mani abbastanza grandi, mi serve appunto una bacchetta che abbia un bilanciamento maggiore, soprattutto sul grip, e che appunto mi dia sicurezza quando suono. Passiamo ora a parlare... Passiamo ora a parlare di una marca che non conosco tanto bene, che è la Gibraltar. Diciamo che la conosco di nome, non ho mai utilizzato le loro aste, però appunto mi è capitata l'occasione di comprare quest'asta e ho detto perché no. Insomma, siccome è una tra le più rinomate per quanto riguarda gli hardware e le batterie, ho detto perché non prenderla, insomma. Ho voluto occupare questa asta perché non volevo occupare ulteriore spazio a terra con altre aste tripodi o marchi ingegni vari. Quindi, come potete vedere, questa è un'asta che attraverso questo clamp si può attaccare tranquillamente all'asta del charleston oppure all'asta di qualche altro piatto. Andremo ora ad aprire la confezione. Ecco qui l'asta in tutto il suo splendore. Possiamo notare che il clamp è fornito di due viti standard per ottenere una maggiore sicurezza quando la si va ad applicare ad una determinata asta. E poi, spostandoci, troviamo questa vite che aiuta a regolare l'asta per quanto riguarda la rotazione e l'altezza verticale. Mentre, ovviamente, l'altezza verticale è anche orizzontale, nel senso che, se vogliamo girare l'asta, possiamo, appunto, avere un ampio margine di regolazioni. E poi, alla fine, la classica wingnut per stabilire la regolazione del braccio su cui si poggiano i feltrini e la vite. Bene, e arriviamo all'ultimo pezzo dei trailer recensiva. Questo è uno splash della UFIP da 10 pollici, un classico per chi conosce il marchio, nel senso che fa parte della serie più conosciuta della UFIP, che è la classe Sirius. Il piatto in questione mantiene, da una parte, una sonorità squillante, ma che è accompagnata anche da una sonorità molto più scura. Direi di non dilungarci in altre parole e io direi di andare a provare questo piatto, le bacchette e anche l'asta. Direi di non dilungarci in questo piatto, le bacchette e anche l'asta. Bene ragazzi, grazie di avermi seguito fino alla fine in questo video. Cosa posso dire? Che sono davvero soddisfatto di me qui. Un saluto e un bacione. Grazie. 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 Grazie.